Le isole canarie, con la loro bellezza naturale e il clima favorevole, sono da sempre una meta ambita per i turisti. Tuttavia, dietro queste immagini di Lieka si nascondono sfide significative. I residenti locali stanno lottando per preservare la loro cultura, l'ambiente e la qualità della vita. Nel nostro video esploreremo le ragioni di questa ribellione, le preoccupazioni dei residenti e le azioni che stanno intraprendendo per difendere la loro terra. Scopriremo anche come possiamo contribuire a un turismo più sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Quindi, non perdete questo importante approfondimento sulla ribellione dei residenti delle isole canarie al turismo di massa. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati, anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali, troverete tutti i link in descrizione, grazie mille. Ribellione dei residenti delle isole canarie al turismo di massa, una lotta per la sopravvivenza culturale e ambientale. Le pittoresche isole canarie, con le loro spiagge di sabbia dorata, paesaggi vulcanici e clima mite, sono da tempo una meta turistica ambita. Tuttavia, negli ultimi anni, i residenti locali stanno alzando la voce contro il turismo di massa che minaccia la loro identità culturale e l'ambiente naturale. La crescente preoccupazione dei residenti delle isole canarie riguarda diversi aspetti. 1. Sovraffollamento. L'afflusso costante di turisti ha portato a sovraffollamento nelle principali destinazioni turistiche. Le strade, le spiagge e i siti storici sono spesso invasi da visitatori, rendendo difficile per i residenti godersi la loro terra. Questo afflusso massiccio di persone può anche causare tensioni sociali e un aumento dei prezzi degli immobili, escludendo i residenti dalle proprie comunità. 2. Impatto ambientale. L'aumento del turismo ha un impatto significativo sull'ambiente. La gestione dei rifiuti è diventata un problema urgente, con montagne di plastica e rifiuti che inquinano le coste e gli ecosistemi marini. Inoltre, la crescente richiesta di risorse idriche per l'irrigazione dei campi da golf e per l'approvvigionamento idrico nei resort sta mettendo a dura prova le risorse idriche limitate dell'arcipelago. La costruzione di grandi resort e infrastrutture turistiche ha anche alterato l'equilibrio naturale dell'ecosistema. 3. Perdita di autenticità culturale. I residenti temono che la cultura tradizionale delle Canarie stia gradualmente svanendo. Le tradizioni locali, la lingua e le usanze sono messe in secondo piano a favore di una cultura turistica omologata. I ristoranti e i negozi locali sono spesso sostituiti da catene internazionali e le feste tradizionali sono sempre più commercializzate per attirare i visitatori. La ribellione dei residenti sta cercando di preservare la loro identità e il loro ambiente attraverso diverse azioni. 1. Proteste pacifiche, manifestazioni, petizioni e incontri pubblici sono stati organizzati per sensibilizzare l'opinione pubblica e chiedere misure di controllo del turismo. I residenti si sono uniti per chiedere una pianificazione urbana più sostenibile e una maggiore partecipazione nella gestione delle risorse turistiche. 2. Promozione del turismo responsabile. Alcuni residenti stanno promuovendo un turismo più sostenibile, incoraggiando i visitatori a rispettare l'ambiente e la cultura locale. Questo include pratiche come il turismo ecologico, il supporto ai prodotti locali e il rispetto delle norme di comportamento nei luoghi sacri. 3. Coinvolgimento delle autorità. I residenti stanno cercando di coinvolgere le autorità locali e regionali per sviluppare politiche che bilancino il turismo con la conservazione ambientale e culturale. Ciò include limitazioni sulle nuove costruzioni, promozione del turismo fuori dalle rotte tradizionali e incentivi per le imprese che adottano pratiche sostenibili. In conclusione, la ribellione dei residenti delle isole canarie è un grido di aiuto per preservare ciò che rende queste isole uniche. La sfida sta nel trovare un equilibrio tra il turismo e la tutela dell'ambiente e della cultura. Solo attraverso un impegno collettivo e una visione a lungo termine possiamo garantire un futuro sostenibile per le isole canarie. La notizia per il momento è solo per il momento termina qui. Se non l'avete ancora fatto questo è il momento giusto per iscriversi al canale, attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video, seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione, lasciate anche un like e un commento ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale, grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata, l'appuntamento è sempre per la prossima notizia.